Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Iniziamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. In un anno 3.000 posti di lavoro in più, i dati diffusi dall'Istat per il Molise, frattura, rapporto di straordinaria importanza. I dati diffusi dall'Istat fanno ben sperare, frattura, concreti segnali di ripresa. Raffrontando il primo trimestre 2015 a quello del 2014, si è passati da 94.000 a 97.000 occupati. A Campobasso ieri la sentenza che ha visto come protagonista Umberto Santoro, l'uomo che più di un anno fa ha reso in fin di vita una giovane barrista, l'uomo sette anni di condanna da scontare. Ancora è inchiesta sui gruppi consigliari, spese pazze, Picciano da Forfè, si torna in aula il 1 luglio. Un legittimo impedimento non gli ha permesso di presentarsi davanti al GUP. Viabilità e disagi, lavori sulla Trignina, auto ferme per un'ora in galleria, problemi alla circolazione sulla Trignina, interessata da alcuni lavori. Passaggio a livelli aperti, scortato il treno Roma-Campobasso, passaggio a livelli aperti da Carpinone, carabinieri, in aiuto di ferrovie. Ci spostiamo a Venafro, in comune passa il bilancio, il sindaco Sorbo e Salvo. Ieri pomeriggio il Consiglio ha dato l'ok al documento. Sorbo e Salvo. E ancora Sanità, il subcommissario di Martino, da ieri in Regione, Frattura, siamo pronti a lavorare insieme per la sanità del Molise. Martedì summit in Prefettura, migranti, 200 nuovi arrivi previsti a Campomarino. Ancora a Campobasso, la moda prende vita nelle protesi di Roberta Maurelli. Le sue creazioni hanno sfilato ieri sulla passerella del Blue Note. Passiamo adesso allo sport, serie di lupi, Todino vicino alla conferma, Minadeo, ci piacerebbe trattenere i conti. Potrebbe restare uno tra Miani e Di Gennaro. Ancora serie di Isernia, parte l'azionariato popolare per l'iscrizione al campionato. La società si appella alla piazza Bianco Celeste. Eccellenza, mister Totaro lascia dopo due anni la panchina del Gambatesa di comune accordo col presidente Conte. Proseguiamo adesso con le notizie di futuro Molise. Isernia, aria aumentata del 500% per le categorie ortofrutta, pescherie, fiori e pizzerie. Un grave colpo inferto dall'amministrazione Brasiello al commercio in città, class action dei commercianti. Sanità in regione, il nuovo subcommissario Frattura, con Di Martino, sintonia per collaborare. Viabilità entro fine mese. Sarà riaperto il viadotto sul torrente Callora a Boiano. La fine di un incubo per gli automobilisti che cela un'altra preoccupazione. Proseguiamo con primo piano Molise. Luci e ombre sul Molise che lavora nel primo trimestre, 3.000 posti in più. Il governatore è evidente l'inversione di tendenza a frutto delle politiche nazionali e delle nostre misure di accompagnamento. L'Istat certifica l'incremento di 3.000 occupati nel primo trimestre in Molise rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma il tasso di disoccupazione resta sempre stabile al di sopra della media nazionale, ma il dato sulla disoccupazione resta stabile al 16,1%, tre punti sopra la media nazionale. Nel taglio alto troviamo l'omicidio del febbraio 2008, delitto senza colpevoli. I genitori di Lucio Niro vogliono la verità. Umberto Santoro, condannato dal Tribunale di Campobasso, ridusse in fin di vita una giovane barista in un locale di Via Veneto, sette anni di carcere. Sette anni e due mesi di carcere per Umberto Santoro, il giudice del Tribunale di Campobasso, Maria Libera Rinaldi, lo ha condannato ieri pomeriggio con il rito abbreviato per aver accoltellato ad aprile 2014 una giovane barista, riducendola in fin di vita. Dopo l'efferato gesto, l'uomo andò a mangiarsi una pizza. A Campobasso, la tragedia nei campi di Limosano, slitta l'autopsia sulla cinquantenne. L'esame sarà eseguito oggi al Cardarelli. Isernia, vertice in prefettura per scongiurare l'arrivo di altri 400 immigrati. In città due strutture pronte ad ospitarli. E ancora disernia il sindaco Brasiello sulla graticola, pure se le PSI lo sfiduciano, serve un cambio di rotta. Con una nota a firma delle segreterie provinciali di se le PSI, i partiti mettono in chiaro la loro posizione sull'attuale gestione Brasiello e avvertono senza un cambio di rotta non si va avanti. Così la situazione per il sindaco si complica ulteriormente alla vigilia del Consiglio Comunale sul bilancio. A Montenero, dopo di Pietro e Frattura, anche Cesa dell'Udc benedice Travallini. Il laboratorio politico sperimentato nelle ultime amministrative piace anche a Lorenzo Cesa, che dopo di Pietro e Frattura benedice Travallini. In giunta sicuramente sarà nominato un esponente dell'Udc. Intanto ieri, prima riunione del sindaco con la nuova maggioranza. Al comune di Venafro passa il bilancio, ma Sorbo si salva per un solo voto. E di nuovo Sanità, Palazzo Vitale si è insediato di Martino il nuovo subcommissario. Si è insediato il nuovo subcommissario di Martino, intanto i medici pronti a manifestare in scadenza i contratti deprecari. Passiamo allo sport, Serie D, Napolano sul taccuino dei Lupi, con congedo sereno per Mister Vullo. L'iniziativa, l'Isernia lancia il crowdfunding per l'iscrizione al campionato. L'Isernia ha lanciato il crowdfunding per reperire i fondi necessari a iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D. L'allarme, Gente di Mare chiede chiarezza, nessun appoggio per club non seri. Gente di Mare ha denunciato il silenzio intorno al termolicalcio, chiesto un incontro al sindaco. E proseguiamo adesso con le notizie di Informa Molise. Al via i tirocini per garanze a giovani presso Terminus SRL. Post-sisma, ACEM, occorre l'istruttoria unica per velocizzare le procedure. Nuove tecnologie per processo di valorizzazione delle abilità residue e ruolo dei centri ausiliari nella scelta degli ausili tecnologici. Appuntamento all'Unimol. Bregantini, solidarietà della diocesi alla fisiomedica di Toro. Sanità in regione il nuovo subcommissario Frattura, con di Martino Sintonia, per collaborare. Festività del Corpus Domini a Campobasso, le indicazioni del sindaco Antonio Battista su parcheggi, navette e chiusure al traffico. Continuiamo con la Gazzetta del Molise. In prima pagina troviamo una notizia relativa alle biomasse di Campochiaro e titolata per l'appunto Le biomasse di Campochiaro per i furbetti molisani. Le società chiedono i danni alla regione, ma il terreno dopo cinque anni non è stato pagato. La Civitas sapeva? L'Oscar del giorno va a Luisa di Nino, mentre il tapiro del giorno a Salvatore Colagiovanni. Passiamo adesso in rassegna alcuni quotidiani di stampo nazionale. Iniziamo con Libero. Renzi vuole dare le case ai Rom. La batosta elettorare espira Matteo, subito aiuto agli zingari e legge per lo IUS soli, cittadinanza automatica a chi nasce in Italia. E Alfano annuncia altri immigrati al nord, Veneto e Lombardia sulle barricate. Lega al massimo? No, non solo protesta, così Salvini può crescere ancora. Tagli e norma per la difesa civile non armata, Premier e Boldrini smantellano l'esercito. I popolari De Mauro lasciano la maggioranza, via altri due, governo in bilico, al Senato. Proseguiamo adesso con la Gazzetta del Mezzogiorno. Un po' meno disoccupati, calo al 12,4%, ad aprile 159 mila nuovi posti, Renzi avanti tutti, ma il Senato maggioranza più debole, nasce il gruppo di fitto. I cinesi mettono gli occhi sul Bari, primi contatti con Papa Resta. Si allontana dall'asilo e torna a casa da solo, Bari, un bimbo di quattro anni e mezzo. Emiliano sta pensando alla giunta con cinque donne, o con vincole lette, grilline o esterne. Continuiamo con Avvenire. Il Papa, la famiglia Pilastro Trascurato, c'è da inginocchiarsi davanti a quelle povere. Il nodo, l'impegno di cura, deve essere riconosciuto. Nell'udienza Francesco sottolinea la forza dei legami familiari che sostengono la società e denuncia la disattenzione della politica. Ad aprile cala la disoccupazione al 12,4%, torna il lavoro, più 159 mila occupati. L'OSCE ora avanti. La Lega fa murono ai profughi nelle sue zone. Lasciano in due maggioranza stretta al Senato. Nel taglio alto intanto troviamo poste, comunità montane, troppi tagli, piano da rifare. Turchia ha chiesto l'ergastolo per reporter scomodo. Buffera su Erdogan. Caso Grecia, sconto ad Atene per l'intesa, ora decisive. Proseguiamo con la Gazzetta dello Sport. Milan Sinisa, Mijajovic sarà il tecnico rosso-nero. Con questa notizia si conclude l'informazione di Molise TV. Grazie per averci scelto. Di seguito le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Buona giornata. Il meteo è offerto da Da oltre 25 anni a Santa Croce di Magliano, le officine Pilla progettano e realizzano veicoli per l'igiene urbana. Officine Pilla. Artigiani italiani. Previsioni del tempo per giovedì 4 giugno. Un campo di alte pressioni abbraccia l'Italia, garantendo così condizioni di tempo stabile e soleggiato. Eccezione fatta per cumuli in sviluppo diurno sulla dorsale con la possibilità di qualche fenomeno sulla Lucania meridionale. Temperature in generale aumento, venti moderati settentrionali. Basso Adriatico da poco mosso a mosso. Campobasso minima 17, massima 28 gradi. Isernia minima 14, massima 25 gradi. Termoli minima 20, massima 24 gradi. Il meteo è stato offerto da... Da oltre 25 anni a Santa Croce di Magliano, le officine Pilla progettano e realizzano veicoli per l'igiene urbana. Officine Pilla. Artigiani italiani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS